Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo terzo episodio di Resident Evil 2 Remake. Nello scorso episodio abbiamo esplorato l'RPD, recuperato diversi oggetti, risolto diversi enigmi e ci siamo finalmente accertati che Leon è vivo e anche lui presto entrerà nell'RPD che noi potremo vedere solo giocando la parte B di Leon una volta terminata la parte A di Claire. Allora, diamo un'occhiata all'inventario. Per prima cosa io prenderei questa cassetta di sicurezza portatile queste sì me le tengo, sì tengo tutto perché adesso andremo a mettere anche il C4 però prima risolviamo questo enigma. Molto semplice, cioè questo è di memoria eh. Ok, allora 1 e 2, niente, 1, niente. Ok quindi questi 2, 1, 2, 3, 4, ammazza che culo, 5. Secondo me è questo. Mamma mia, regà pensa se sbaglia all'ultimo. Ecco, me la so tirata. Oddio aspettate che non me ricordo. Questo, questo, questo qui, questo. Ecco qua, l'abbiamo risolto in tempo brevissimo. Ok, pezzo di ricambio, oggetto chiave. Un piccolo pezzo di ricambio, questo va messo, questo è il tasto che troviamo nella stanza dove abbiamo preso il lanciagranate. Adesso infatti andremo a metterlo subito. Speriamo che non ci sia il leaker. Come un po' vede qua? Sì, non posso. Questo. Se c'è il leaker siamo messi male. Ancora no. Mettiamo subito il tasto. Possiamo scegliere se mettere il 3 o se mettere prima il 2, visto che nel 2 c'era qualcosa che mi interessava. Allora, 2, 0, 3 non possiamo prenderlo perché ci manca il 3. 2, 0, 8 possiamo prenderlo perché qui ci sono delle munizioni esplosive, quindi. 2, 0, 8, perfetto. Poi controlliamo qui, 102, 103, questo potremmo, eh, 102 anche. E 102. 102, 1, 0, 2. Enter. Abbiamo trovato un altro rullino che sicuramente potrà servirci. Infatti adesso andremo subito a svilupparlo. Intanto ci prendiamo anche questi colpi qui esplosivi. Lì c'è un documento, forse non l'avevo neanche letto. Ah, ok, ok. Questo si invita risposta per trovare dei tasti di ricambio. Questo ci dice che dobbiamo cercarli. Noi ne abbiamo trovato solo uno. Adesso noi torniamo da questa parte. Anche perché devo scoprire anche la combinazione dell'armadietto. No, della cassaforte forse ce l'abbiamo. Ma dell'armadietto no. Che sto facendo? No, questa è la polvere da sparo, ragazzi. Niente, mi sto confuso, scusate. Ero convinto che era un rullino invece della polvere da sparo. Ne abbiamo un'altra, sì. Abbiamo anche questa. Potrei fare... Ragazzi, preferisco fare queste. Queste le poso. Ok. Queste sono quelle che ci serviranno... Nei momenti più critici. Adesso ce ne andiamo per di qua. Di qua. Tanto qui non c'è più nessuno. Ne abbiamo fatti fuori tutti, ragazzi. Adesso dobbiamo anche prendere la gemma. Che mi sono dimenticato. La potevo prendere da qui. No, la gemma no. Che sto facendo? Eh... Niente, niente. No, non devo prendere niente, scusate. Credevo di avere il portagioia, invece non ce l'ho. Dobbiamo recuperare l'ultimo medaglione. E voglio farlo prima di incontrare Mr. X, ovviamente. Perché quando ci sarà Mr. X... Saranno guai. Allora, se ne andiamo di qua... La cassaforte qual era questa, vero? Ok, forse noi qui abbiamo un documento. Allora, 9 a destra, 15 a sinistra e 7. 9 a destra e 15 a sinistra. Eh, è sbagliato, scusate. No. Allora. 9 a destra. 9 a destra e 7. 9 a destra e 7. 10 a sinistra e 7. 9 a destra e 7. 9 a destra e 7. 10 a destra e 7. No, non è questo. Aspettate. Questo l'abbiamo visto. Perché a me mi sembra che quella... Che quel codice là, io già l'avevo fatto. Ragazzi, non me lo ricordo. Poi lo vedrò. Adesso andiamo di qua. Mi sembra che... No, il C4 non sta qui. Ecco, io lì eviterei di andare. Categoricamente. Adesso vorrei andare a mettere... Il C4. Ma mi sa che... Boh, non so. Mi sa che era proprio quella. O l'ho messa male. In ordine messo male. Adesso andiamo di qua. Perché il C4 mi sembra che sta proprio qui. Da questo mi rompe le palle. Che è qua. Non ho oggi, caro zombie. Oddio, è chiuso dall'altro lato. E adesso... No, un modo c'era. Un modo c'era. Sì, dobbiamo andare qui sopra. Ma l'importante è che non ci rompe le palle. Ah, eccolo qui. Sì, il C4 sta proprio qui. Lo mettiamo. Dobbiamo anche toglierci ovviamente. Se no ci esplode addosso. Ok. Ah, l'ultimo medaglione. Aspettate. A parte qua non si vede, però voglio vederlo lo stesso. Aspettate, questa qual è? Ok. Forse qui non possono venire, giusto? Qui è una donna, un arco, è un serpente. Don, arco, serpente. Aspetta, eh. A uno. No, quello non poteva essere. Ok. Quella della donna mi sa che già l'ho fatta. Quello pure. No, è uno di quelli, per forza. Eh, io come faccio a capire da così? No, questo no. Eccolo. Ce l'ho fatta. Meno male. Prendiamoci l'ultimo medaglione. Qui ci sarà pure il Ligar. Però io il Ligar non me ne ho un culo, proprio. Se vabbè, da che culo. Allora, aspettate. Qui c'è il Ligar e io... Non è che mi posso... Allora, ragazzi, io farei così. Visto che... Oh, l'abbiamo fatto fuori con un colpo, sì. Ma c'è un altro, per caso? Guarda se ci lasciano in pace, eh. Accidua. Aspetta, aspetta, aspetta. L'R. Ok, qua non può andare. Mamma mia, che culo, ragazzi. Pensavo di averci rimesso. Ok, lì non possiamo andare. Stiamo messi in una merda, ragazzi. Dobbiamo andarci a prendere subito uno spray medico. Ok. Eh, perlomeno abbiamo preso tutti i medaglioni, eh. Però non ci andrò subito lì sotto. Allora. Molto bene. Enigma risolto, ragazzi. I medaglioni li abbiamo ottenuti. Adesso dobbiamo trovare... No, la gemma rossa ce l'ho. Devo trovare assolutamente il portagioie e le altre chiavi. Io non vorrei, però... Cioè, io vorrei evitare Mr. X subito. Però non vorrei che Mr. X appare proprio dopo. Allora, io questa me la porto. Così, se trovo il portagioie, posso andare... Dalla Starz. Nell'ufficio della Starz. Però io adesso non mi ricordo. È quello il bello. Adesso torniamo di qua. Caccia. Dì, io lo Claire. Ah, io direi che quello lo possiamo anche lasciare là. Però io devo trovare adesso un sistema, ragazzi. Come faccio adesso ad accedere di fuori? Sicuramente è da qui. Sì, è da qua. Dobbiamo superare lì dove ci sta il leaker. Ok. Passiamo da qui, ragazzi, direttamente. Eh, vabbè, dai. No, qui sopra siamo... No. Ma qui è sbagliato. Non è neanche questo, ragazzi. Eh, che devo andare, aspettate. Sì, devo andare proprio di qua, ragazzi, sì. Adesso che non piano mi sto ricordando qualcosa. Eh, l'leaker sta pure lì, vero? Se c'è. Raga, io sto intorno ai passi. Non credo sia Mr. X. No, ero io. Qui ci siamo stati. No, vabbè, dai. Raga, scusate se sto parlando poco, ma sono proprio concentrato. Forse l'abbiamo fatto fuori, eh. Ce n'è un altro? Ok, è morto, ragazzi. Abbiamo sconfitto il leaker. Non c'è neanche un'erbetta, eh. Qui c'è una chiave, non possiamo prenderla. Ah, la chiave sta al parcheggio. Adesso me lo ricordo. Dovremmo scendere giù. Per forza. E ragazzi, siamo obbligati a scendere. Per forza. Cioè, almeno che non sto sbagliando qualche cosa io, eh. C'è un'altra... Ok, ce l'ho un'altra bomba. Mi sembra che si accedeva proprio da qui, da fuori. Da fuori sono d'accordo. No, io dovevo andare. Non era qui, infatti. Qui non posso andare. Eh, raga, sinceramente non lo so. Qui dovremmo averli fatti fuori tutti. Allora, fammi controllare adesso. Dovremmo andare. Dovremmo andare di nuovo lì dove ci stava il leaker. Per forza. Questo ce lo leviamo dalle palle. Raga, io sinceramente non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo proprio. Allora, qui ci sono due porte. Una è questa. Facciamo piano che se ci sente il leaker... Siamo fottuti. Ho capito. No, siamo morti. Non ci posso credere, ragazzi. Allora, ragazzi, adesso io stavo pensando, dato che evidentemente mi mancano troppe chiavi per aprire altre porte. Sono diretto verso Birkin, ovvero di qua. Io direi che a questo punto è meglio così. Forse ho perso troppo tempo. Perché volevo spegnere il fuoco direttamente e poi scendere giù così, evitando Mr. X, ma evidentemente non possiamo. Eh, Marvin è quasi andato. Non ha una bella cena cesicena, una bella cena Marvin. Claire, devi proseguire da sola, per forza, perché Marvin sta per morire. E sarà... forse sarà un problema. Ok. Ehi, Marvin. Grazie. Ok, qui il passaggio si è chiuso. Forse nella parte B era possibile... Andare subito su, cioè di fuori a spegnere l'incendio. Invece qui dobbiamo fare per forza... Questa parte qui. Allora, io direi adesso di prendere... L'altra polvere da sparo la combiniamo. Otteniamo così altri 13 colpi. Poi mi prendo... Le granate incendiari che potrebbero servirci. Ok. Mi prendo anche uno spray medico. Posso queste che non ci servono. E direi che possiamo andare così. Anzi, questo me lo poso che magari... Sì, siamo pronti per la battaglia. Ragazzi, io darei una piccola salvata. Dato che... Adesso avremo una... Faremo una boss fight. Quindi voglio essere sicuro che... Voglio stare tranquillo che riesco a passarla. Perché se moriamo dobbiamo ricominciare... Dal penitaglione. Non è tanto, però comunque... Preferisco salvare... Allora, dobbiamo andare di qua. Qua sotto, se non sbaglio, c'è... Una granata. Io vorrei prenderla. Questa è fondamentale, ragazzi. Io voglio tenerla. Qui non possiamo accedere ancora. Ci serve la chiavetta USB. Dobbiamo fare le scale. Adesso ce ne andiamo per di qua. Sentite i passi. Spostiamo questo. Attenzione a Birkin che potrebbe uscire da un momento all'altro. Eh, non è che non si muove. Non c'è la forza che ha Leon. Attenzione, ragazzi. Sherry Birkin fa la sua prima comparsa... In Resident Evil 2 Remake. Sherry Birkin non è altro che la figlia di William Birkin e Annette Birkin. Poi scopriremo la loro storia molto più in là. Ma che sei sorda, Claire? Girate. Eh, chi? Vediamo, proprio risponde, Claire. No, non lo è, Claire. Adesso siamo veramente nei guai. Allora. Quello che dobbiamo fare inizialmente, ragazzi, è recuperare tutti gli oggetti che ci sono qua. Perché se noi ricopriamo tutto, stiamo più tranquilli. Questa la combiniamo. Ok. Comunque io sono fiducioso. Penso che ce la facciamo tranquillamente. Tanto io, come lo vedo... Ecco qua. Se mi si piazza davanti, io gli sparo... Le mie bellissime granate acide. Qui c'è un'altra erbetta. Ecco, lo sta arrivando. Eh, lo so che brucia. Tira fuori l'occhio. Quello, non è mica così facile. Eccolo. Eh, vabbè. Dammi l'occhio. Gira l'occhio. Eh, vabbè. Non fare l'esagerata, Claire. Cazzo, sono in un vicolo cieco. Allora, fammi un po' vedere una cosa. Allora, questa ce la spariamo subito. Ok, usiamo questo. Dov'è? Così pure abbiamo finito già tutti gli oggetti. Eh, cazzo, qua. Fammi passà. Quindi dovrebbe esserci qualcos'altro. Sì. Prendi tutto. Esci l'occhio. Prendimi, prendimi. Così gli spariamo un'altra. Ecco l'occhio rosso, quasi rosso. Dai. Ragazzi, mi sa che ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. Meno male. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Molto più semplice. Vabbè che in modalità standard non è così complicato. Ma in modalità estrema, vi assicuro che è molto più difficile, soprattutto perché scherzeggiano le munizioni. Comunque ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo un po' la scala se... Eccola. Ehi! Ragazzina! Eh, non è finita, cara Claire. Presto lo scoprirai. I guai non sono finiti. Sul sello. Sì. Promesso. Va tutto bene. Dovresti farmi scendere quella scala. Mi aiuti a trovare mia mamma. Tua mamma è qui sotto. Penso di sì. Bello, spero. Dai, e Sherry, butta giù sta scala, su. Ok. Sherry si fida di noi. Di qua! Di qua! Andiamo. Carichiamo la nostra rivortella. Non abbiamo più niente qui, vero? Ok. Mettiamo questo. Volevo vedere se c'è qualcosa. Adesso lo faremo muovere noi. Tranquilla, Sherry. Hai visto? Lei è sempre al lavoro. Non la vedo quasi male. Eh già. Beh, se va tutto bene, la vedrai presto. E dov'è tuo padre? L'hai appena affrontato. Cara Claire. Uh, la borsa. Meno male, abbiamo due slot in più. Ok. Ok. Allora. Questo lo posiamo. Questa la posiamo. Questa la posiamo. Questa ce la... Anzi, questa la posiamo. Ci copriamo solo questa. Ragazzi, io direi che a questo punto possiamo interrompere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate il like, condividete, commentate e soprattutto iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 2 Remake. Non mancate. Ciao.